Il 30 giugno Team Young è stata per voi sulle spiagge di Milano Marittima per trovare il look più trendy dell'estate. Qual è il tuo look da spiaggia? Mi metti in costume, eh? Total white Verde, fucsia, colori Ford Amicia, bermuda Fucsia e colori fluo Pantaloncino e camicia Colorato Pantalone abbastanza sportivo Scoloratissimo e brillantinosissimo Qual è il tuo colore preferito? Bianco Il fucsia Blu elettrico Verde smeraldo Nero, rosso, arancio, verde, dipende Verde Verde Giallo Giallo fluo Rosa Fucsia Qual è l'accessorio che non può mancare nella tua estate? Occhiali da sole Costume Gli orecchini Costume Il cellulare Le scarpe col tacco Occhiali da sole Un braccialetto Un pareo Un pareo Per me occhiale da sole Un uomo L'iPad Con Team Young Quanto tempo ci metti a vestirti prima di andare in spiaggia? Poco Ci metto mezz'oretta Ma troppo Troppo dalla mezz'ora all'ora 15 minuti 5 minuti 10 minuti 15 minuti Una mezz'oretta 15 minuti 10 minuti Zero minuti Mezz'oretta massimo Compresa la doccia e i capelli Poco poco Infradito Pantaloncini Canottiera E via Quanto ti senti young? Mi sento 18 anni 10 11 10 12 12 Facciamo 20 Giovane e giovane 11 6 10 10 1 11 20 12 15 55 100 2000 Troppo young Un saluto per Team Young Saluto a tutti gli amici di Team Auguro buona estate a tutti Ciao 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 raga Ciao 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 Team Young Ciao Un bacio a tutti Ciao Team Un saluto a tutta la Team Young Ciao a tutti da Milano Marittimo Ciao 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 Team Young Buona estate Un bacio per tutti Vai Team Young Vai Ciao a tutti Buona estate a tutti Ciao ciao Viva quelli della Team Young Grande Ciao a tutti Passate tutti a Team Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti